Cosa cavolo siete voi? Oh mio Dio ragazzi! Ciao a tutti ragazzi sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video della ModCraft Nello scorso episodio c'è stato un piccolo fraintendimento e adesso vi spiego per quale motivo Allora come vedete ho di nuovo l'armatura dell'infinito perché come vi avevo già detto Nell'altro episodio appunto l'armatura dell'infinito continuerò a indossarla quando sarò nel mondo normale E anche la spada e tutti gli oggetti ma quando entro nella nuova dimensione Devo per forza togliere tutto ciò che appartiene a questo mondo Quindi qualsiasi oggetto del mondo normale nella nuova dimensione non funzionerà E questo vale anche per l'armatura dell'infinito e la spada dell'infinito Questi oggetti saranno completamente inutilizzabili nella nuova dimensione Perché dovremo utilizzare gli oggetti della dimensione della Between Lands E ora vi faccio vedere che cosa intendo Entriamo nel nuovo mondo Facciamoci risucchiare all'interno di questo nuovo mondo Ed è per questo che lo scorso video si intitolava il portale del tempo Perché è come se fossimo ritornati indietro nel tempo Questa è la spada dell'infinito Visto? Non ho i suoi utilizzi Guardate quanto spada lentamente E la stessa cosa vale anche per l'armatura Ok posso volare è vero Ma non mi conferisce nessun tipo di protezione extra Perché devo craftare le armature e le spade adatte a questo mondo O se non altro questo è quello che mi avete detto voi nei commenti nello scorso video E devo scoprire tutti i nuovi crafting Tutte le nuove spade e le armature Per sopravvivere e sconfiggere i boss di questa dimensione Quindi a me non fa piacere togliere l'armatura Però nel mondo normale continueremo a utilizzarla Ma qui non ha senso Questa spada è inutilizzabile L'armatura non mi conferisce tutta la protezione che dovrebbe Non mi rende immortale qua dentro Infatti come vedete i cuori Che sarebbero quelli che uso io per da vampiro appunto per mangiare Si sono trasformati in cibo marcio Qualsiasi oggetto del mondo normale Si trasforma in un oggetto marcio che non funziona Guardate adesso torno nel mondo normale E i cuori sono tornati cuori umani normali da vampiro Quindi per completare questa nuova mod Che è una mod stupenda e bellissima Tu come hai fatto? Vabbè non importa Se non avessi aggiunto questa mod Avrei interrotto la modcraft E avrei fatto la modcraft 2.0 Quindi in questo modo ne possiamo esplorare un'altra nuova Quello che però dobbiamo fare assolutamente È tornare esseri umani Quindi non dovrò più essere un vampiro Perché altrimenti non posso mangiare il cibo del posto Se provo a mangiare qualsiasi tipo di cibo Mi dirà no, tu devi mangiare i cuori umani E i cuori umani come avete ben visto Si trasformano in cibo marcio Quindi dovrò ritornare umano Ma tranquilli Non appena finiremo la mod Dell'albero della vita E non appena avremo ucciso tutti i suoi boss Tornerò di nuovo vampiro Tornerò il re dei vampiri Quindi facciamo il rituale per tornare Umani Ok È da tantissimo tempo che non torno umano Vediamo Dovrei guardarmi in faccia ora Oh mio dio Mi fa stranissimo vedere la mia faccia normale Allora quindi come vi dicevo Nel mondo normale continuerò a utilizzare La spada dell'infinito L'armatura dell'infinito E tutto quanto Perché ho sudato per averli E quindi li voglio utilizzare È giusto Però nel mondo nuovo Non posso utilizzarli Assolutamente Sono proprio bloccato E non li posso usare Quindi dovremo utilizzare I nuovi oggetti Se non avete ancora lasciato un mi piace Fatelo adesso Se vi piace la modcraft E se volete che continui Quindi rientriamo Nella palude misteriosa Indietro nel tempo Quindi allora Non posso utilizzare Il cibo che mi porto da casa Quindi se provessi a portarmi Una bistecca Non potrei mangiarla Questo cibo qua Che ho in mano io adesso I cuori umani In realtà Mi avvelena E allora devo andare a procacciarmi Del cibo normale Qual è il cibo normale? Non ne ho idea Perché io non conosco questo posto Quindi facciamo gli utensili iniziali Dobbiamo riprendere Tutto quanto Il piccone L'ascia E così via E vediamo un pochettino Se riusciamo A trovare Non lo so Della pietra Dei materiali Ok Se troviamo della pietra Dei materiali Non ne ho idea Facciamoci subito Un'ascia E anche un piccone Come vedete Sono tutti tipo Un po' marci Un po' erbosi Questi materiali Un po' strani Proprio perché appartengono A un mondo totalmente diverso E io presumo Che se dovesse riportare Nel mondo normale Questi oggetti Allora Questi non funzioneranno Proprio come Gli oggetti dell'infinito Non funzionano In questa dimensione Ok Allora Oh cavolo Che cos'è Uno squalo Uno squalo piragna Che cavolo è Oh mamma mia Ha appena mangiato Una libellula Mi fa del male Quanto mi toglie Non mi toglie molto Forse perché Ahia Ok un po' mi toglie Forse perché ho tipo Tanti livelli E sono diventato Sempre più forte Porca miseria Col passare del tempo Ragazzi Ho aumentato Le mie abilità Ho aumentato La mia potenza Ho aumentato un po' tutto Ok Mi è dato della pelle La pelle del lurker Questi dovrebbero fungere Da cibo Quindi Sì 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 Le lumache sicuramente Le posso mangiare Però devo cucinarle Ok Sto posto Metti i brividi ragazzi Metti i brividi Ma è bellissimo È proprio magico È mistico È acqua paludosa Molto bene Quella pietra Cos'è la pietra della morte Perché c'è C'è un teschio Tu non mi attacchi vero No Non riesco a muovermi qua Sono tipo sabbie mobili Questa qua è la pietra del luogo Cioè la posso utilizzare Per farmi Il piccone per esempio Come si chiama Between stone tiles Quindi non credo sia pietra No Qualcosa mi dice Che non la posso utilizzare Per farmi una spada in pietra Fatemi vedere Proviamo a farci un piccone No Infatti come immaginavo Ragazzi Ok Quindi la vera e propria pietra Oh Chi è Fermo Ancora ragazzi Non conosco bene questa mod Quindi ho bisogno Dei vostri consigli Mi raccomando Proprio come avete fatto All'inizio della modcraft Che mi davate consigli Per ogni cosa Continuate a consigliarmi Come andare avanti Però Lì Mi sembra di vedere una casetta Qua Poi questi tronchi Sono stranissimi Guardate qua Devo farmi Oh mi dio un golem quello Sono curioso però Le robe del golem Qua per caso Sono utili No Secondo me le robe che ci sono nella cesta Sono robe della cesta Di minecraft normale Oh cavolo L'ho risvegliato Ha rotto tutto Ai 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 Oh mi segue No 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 Corri 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 Nuota nuota più veloce Nuota più veloce Devo riuscire a distrarlo Eh io a te nel mondo normale Ti ristruggo con un colpo Altro che Devo cercare di prendere Le robe dalla cesta Che cosa c'è? Ma no Sono robe del mondo normale Non mi servono a nulla qua Io ho bisogno Dei nuovi oggetti Ma non ho la minima idea Di dove iniziare Non me l'avete consigliato Nello scorso video Cioè mi avete detto Soltanto che gli oggetti Del mondo normale Sono inutili In questa dimensione E mi avete anche detto Che esistono tre boss Super potenti E che sarà super difficile Batterli Ok tu continua Ad attaccarmi E questo? Che cos'è sta luce? La posso raccogliere? L'ho raccolta Wisp? Oh 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 mio dio Ma che cavolo è? È una mummia È un appestato Centodieci di vita Ma come centodieci di vita? Io sono nudo No 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 Oh mio dio Fermi Porca miseria Come centodieci di vita Che cavolo sta facendo? Sta tremando tutto Oh oh mio dio È velocissimo Scappa 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 Quanto vorrei avere L'armatura dell'infinito Quanto vorrei avere L'armatura dell'infinito Ho un'idea Ho un'idea Ho un'idea Che poi È quello che faccio normalmente Quando sono in difficoltà Dobbiamo scavarci sotto i piedi Dobbiamo cercare una miniera E cercare i primi minerali Oh Ah ho trovato l'albero maestro Vediamo Oh Oh è basta Stupido uccellaccio Come fa a raggiungermi qua il golem? Dov'è? Che cos'è? È pietra? Sì è tipo della pietra questa Oh stupido golem Se non mi lasci in pace Te lo giuro eh Nascondiamoci Così Qua non mi può raggiungere E invece può E invece può Ho super paura Ragazzi Non sono mai stato così tanto spaventato Nella mod craft in vita mia Sarà difficile sopravvivere qua Mi lasci in pace Come cavolo faccio a farmi la fornaccia Se non ho la pietra Facciamo così Per adesso mangio il cibo crudo Meglio di niente Dai Ragazzi sono nei guai Ho bisogno dei vostri commenti Dei vostri consigli Vi prego Aiutatemi No Questi sono degli arboscelli Sono queste Trovate Mi posso fare lo scudo Ok Non mi servono le assi di legno Che cosa cavolo è quello? È uno scorpione È tutto così nuovo È tutto così diverso Però è tutto così intrigante Quelli sono funghi Sì Ok Quindi i log Mi servono i log Benissimo Un altro Sicuramente se mi faccio lo scudo Riuscirò a difendermi Ok Abbiamo il nostro scudo di legno Meglio di niente Meglio di niente Sicuramente Però devo anche Imparare a utilizzarlo Io non sono abituato A utilizzare gli scudi Su Minecraft Ok Quindi fino ad ora Abbiamo combattuto Contro Uno zombie Dei cavolo di falchi O quello che sono Non lo so Dei corvi Poi abbiamo visto Un rospo gigante Il golem Mio dio Mi date un attimo di tregua Questa dovrebbe essere La pietra del posto Ok Così mi posso fare Almeno le armi in pietra Benissimo Benissimo Vediamo se riesco a farmi Almeno i primi utensili Dov'è Dov'è Questa la pietra Sì Quindi Spada Ma questa è una spada In pietra normale E come fa a funzionare Non può A me serve tipo Questa spada Eh sì Cos'è Cos'è L'octine Ingot È questo L'octine Forse è questo Allora Se io provo a craftarmi Un piccone Piccone in pietra Scava Sì Zolfo Ma scusate Allora se funzionano Gli oggetti Io posso riprendere Gli oggetti Dell'infinito No Voi mi avevate detto Che non funzionavano Invece no Funzionano Ma vanno Giusto Senti Lasciami tornare a casa Devo Provare una cosa Allora Voi mi avevate detto Che non potevo utilizzare L'armatura dell'infinito Perché non mi avrebbe reso immortale Anzi Mi avevate detto Che si sarebbe deteriorata E si sarebbe rotta Ma invece a quanto pare Gli oggetti funzionano Sono soltanto più lenti E meno efficaci Allora Facciamo così Facciamo un test Torno a casa E prendo tutti quanti gli oggetti Quindi non devo Iniziare da capo Riindossiamo l'armatura E rimettiamo Tutto quanto a posto Allora Vediamo se funzionano gli oggetti Perché io non ci sto capendo più niente Funzionano O non funzionano Eccomi Allora Se io volessi provare a prendere Per esempio Della pietra Sì funzionano Scava lentissimo Però funzionano Vediamo Invece questo Ok Questo mi prende La legna La spada La spada uccide E allora Per quale motivo Mi avete detto Che in realtà Non li potevo utilizzare Questi oggetti Forse ho capito male io Però Non so se sono immortale Dovrei provare contro Dei mostri più forti Loro non sono forti abbastanza Per uccidermi Chissà contro i boss Perché se vi ricordate Oh che cavolo è sta cosa Dicevo Se vi ricordate Jazar Era quasi riuscito a uccidermi Quindi esistono Dei boss In grado di uccidermi Anche con l'armatura Dell'infinito Forse Allora Facciamo così Iniziamo a scavare Queste caverne E vediamo se riusciamo A trovare Gli oggetti Che ci servono Eccoci Abbiamo sbloccato L'achievement Achievement caverne Eeeh Tappiamo Quest'acqua Di fogna Ok Che cos'è questo? Sir morite Oh mio dio Ma cosa sono Ste caverne? Zolfo Sir morite E' pieno di ori E di materiali strani Slimy bone Osso Slimoso E esistono per caso Dei mostri All'interno di queste caverne? Sono giganti Eeeh Tu sei un fantasma Tu sei un fantasma Ok La spada funziona E' lentissima Perché guardate E' super lenta Però gli attacchi funzionano Quindi la posso utilizzare Non avevo capito nulla allora Quanto sono profonde Queste Ok Ho raggiunto Il punto più basso Perché si è sbloccato L'achievement Rock bottom Oh 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 Ma che cavolo Ma sono gli appestati Via Oh mio dio Via 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 Porca miseria Fammi volare via Cosa cavolo siete voi? Oh mio dio ragazzi Mori 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 E qua sott'acqua si può andare oltre? Ma che profondità sono? Profondità 7 Ok Voglio capire come evocare I boss Di questa dimensione Come faccio a trovare i boss? Me lo dite per favore qua sotto nei commenti Allora Ho fatto bene al ritornare umano Perché Altrimenti Non potrei mangiare Non posso consumare Nella fame E nella sete E a quanto pare Io ho bisogno sia di bere Che di mangiare In questa dimensione Però Ho fatto una cretinata A togliere l'armatura Perché Non serviva a nulla La posso tenere Posso tenere sia l'armatura Che la spada Che tutti quanti gli utensili Però sono molto molto rallentati Cioè non sono veloci Come dovrebbero essere Ma guardate queste caverne Sono spettrali E quest'acqua la posso bere? Vediamo se tolgo tipo Lo scudo Oh Mi è andata via la sete Forse perché stavo bevendo Dell'acqua putrida E l'isir Della decadenza Oh no 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 Ho sbagliato Non volevo bere quella C'è dell'acqua buona Qua da qualche parte No non mi fanno nulla Allora l'armatura funziona Se la tolgo invece Se la tolgo mi attaccano Morite stupidi Anche questa è acqua marcia Mio dio ragazzi Ho veramente tante tante domande Da farvi E mi dovete rispondere Questa è acqua buona? Dai questa sembra buona Non la posso bere comunque Oh ma cosa è successo alla mia mano? Ragazzi Ragazzi cosa cavolo sta succedendo al mio corpo? Nonostante io abbia l'armatura dell'infinito Mi sto tipo Decomponendo Guardate sto diventando tutto verde Devo uscire da qua Devo uscire immediatamente E non devo mai più rientrarci Almeno fino a quando voi Non mi consiglierete Cosa devo fare Come avanzare Senza rischiare la vita Sto posto è troppo pericoloso Ritorniamo In superficie Rompi 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 Ok Wow Cosa sono? Fulmini? Io devo tornare nel mondo normale ragazzi Mi sto decomponendo Cavolo Cosa cavolo ci fai tu in superficie? Muori! Dov'è il mio alberello? Dov'è l'alberello per tornare indietro? Ragazzi mi dovete consigliare voi Cosa devo fare in questa dimensione? Mi raccomando Lasciate tanti commenti Qua sotto Dal vostro channel è tutto Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Io mi sto decomponendo Sono diventato tutto verde Ciao